E a proposito della festa del mare, siamo ormai praticamente ad agosto e le aiuole, guardate queste immagini, le aiuole di Sessone Affano versano ancora in uno stato di profondo abbandono, come dopo i lavori di ripristino della camminata. Alcuni segnalatori, alcuni telespettatori ci hanno segnalato appunto questo degrado e noi siamo andati a vedere, ed ecco il biglietto da visita che è sotto gli occhi di tutti. Grazie.